Sofì organizza una festa di benvenuto a Selin. Lei è stupenda, ma la madre è ancora più bella. Hai visto? Hai visto chi è arrivata? È la tua sorellina! Ma come la fissi? Sì! Sì! Hai visto? Grazie a tutti! Sono tutti felicissimi non solo Sofì e Alessandro, ma anche il loro cagnolino, bella Selin.